Mary Andrews. Non si conosce né la data della nascita né la data del trapasso. Strumento americano ad effetti fisici, vissuto nella seconda metà del 1800. Donna semplice e priva di cultura, come l'italiana Eusapia Paladino, attivò sedute molto frequenti presso la casa di un agricoltore di nome Killer, spesso alla presenza di uomini di scienza. La prima parte delle riunioni si svolgeva in piena oscurità, con vari fenomeni fisici, tipici del periodo iniziale del contatto organizzato con i piani superiori di esistenza. Un pianoforte suonava senza alcun contatto, globi luminosi rispondevano a domande, variando la loro luminosità, spruzzi di acqua finivano sul volto dei presenti, toccati anche da mani invisibili. Si udivano voci. La riunione proseguiva poi in piena luce, mentre lo strumento sedeva, non in trance, nel gabinetto medianico, si materializzavano volti che muovevano le labbra, come se parlassero, alcuni volti erano identificati dai presenti con quelli di cari trapassati. Spesso la stanza era pervasa da uno sconosciuto ma gradevole profumo. È utile notare che attualmente, presso lo storico cerchio e seno, la tenda medianica è ancora in uso. Grazie. Grazie.